Allora, in qualsiasi altro paese la Cancellieri sarebbe già a casa, in Italia invece è finita con 29 secondi di standing ovation in Senato e 18 alla Camera. Il PD è soddisfatto, Letta lo era già prima che parlasse la Cancellieri, Napolitano non batte ciglio, il PDL tifa Cancellieri perché si è convinto che sia come Berlusconi quando telefona alla Questura per il caso Rubi. Ci sarebbe poi la mozione di sfiducia dei 5 Stelle che andrebbe in teoria discussa in tre giorni ma è stata rinviata perché la Ministra deve essere operata alla spalla sinistra, così almeno con un braccio solo magari telefona un po' meno, chi lo sa. Già che c'è potrebbe farsi anche un ritocchino al naso che lei è molto cresciuto dopo le balle che ha raccontato al Parlamento. Vediamo le più grosse, la prima ho agito esattamente nello stesso modo in molti altri casi, sono i famosi 110 detenuti che lei avrebbe raccomandato esattamente come Giulia Ligresti. In attesa di vederli e di contarli soprattutto già sappiamo che non sono esattamente la stessa cosa, a meno che la Cancellieri non sia amica di 110 detenuti, il che aggraverebbe la sua posizione. Per fortuna sappiamo che è amica solo dei Ligresti, ha telefonato solo ai parenti di Ligresti e non a quelli degli altri 110 che al massimo le avranno scritto una lettera o un'email visto che non hanno il suo numero di cellulare e nei non ha il loro. Quindi una differenza c'è e come. Secondo, l'umana vicinanza, le espressioni per creare empatia, mi rammarico di aver fatto prevalere i sentimenti sul doveroso distacco che il ruolo del Ministro avrebbe forse dovuto imporre. Ma, precisa la Ministra, resta il fatto che Giulia Ligresti era malata di anoressia e poteva morire. E qui c'è un bel ma, perché la prima telefonata della Cancellieri alla compagna di Ligresti, appena arrestato con le figlie, è del 17 luglio e lì non si parla affatto dell'anoressia di Giulia, anzi non si parla proprio di Giulia. Si parla di tutta la famiglia arrestata e soprattutto di Don Salvatore, che la Cancellieri chiama povero figlio, anche se ha 81 anni. Giulia e Ionella non c'entrano perché altrimenti direbbe povere figlie e poi, senza che nessuno le chieda niente, la Ministra dice che gli arresti sono la fine del mondo. E non è giusto e c'è modo in modo, cioè il Ministro della Giustizia critica i magistrati commentando un provvedimento che è appena stato emesso e che quindi lei non ha neppure letto. Da una parte ci sono tre arrestati e un latitante accusati di avere fatto un buco di 600 milioni almeno, dall'altra i giudici che li hanno arrestati. Da che parte sta il Ministro della Giustizia? Dalla parte degli arrestati. E poi aggiunge anche, qualsiasi cosa io possa fare, conta su di me, proprio qualsiasi cosa adesso serva a non fare i complimenti. E che cosa può servire adesso a una famiglia trasferita in blocco nelle patrie e galerie? E che cosa può fare adesso il Ministro della Giustizia? Dire una preghierina? Oppure fare altre telefonate? La seconda che ho detto. Terza bugia. Mi rendo conto che alcune espressioni in quella telefonata possono avere generato dubbi sul senso delle mie parole. Dubbi. È stata chiarissima, più chiara di così, si muore. Cos'altro può significare? È la fine del mondo. Non è giusto, non è giusto. C'è modo in modo, conta su di me qualsiasi cosa. Infatti l'igresti capiscono benissimo e un mese dopo la Ministra viene chiamata da Antonino, il fratello di Salvatore, che è anche l'unico rimasto momentaneamente a piede libero, e le chiede di far uscire Giulia. È solo in quel momento che si materializza l'anoressia, cioè un mese dopo. Quarto, in nessun modo la mia carriera è stata influenzata da rapporti personali. Ricordava prima Belpietro che purtroppo Salvatore Ligresti dice a verbale sono intervenuto presso Berlusconi a favore della Cancellieri quando era prefetto di Bologna, in realtà era commissario al Comune di Bologna, poi fu spostata a Parma, lei smentisce e ci crediamo. Poi c'è Gabriella Fragni, la compagna di Ligresti, che dice tu sei lì perché ti ci ha messo questa persona. E chi è questa persona che l'ha messa lì e l'ha messa lì dove? Lei smentisce e ci crediamo. Però quando dice che la nomina di suo figlio a direttore finanziario della Fonsai di Ligresti non c'entra niente col fatto che lei è amica di Ligresti da 30 anni, ci mettiamo tutti a ridere. Anche perché lei si dipinge in Parlamento come una povera pensionata sulla panchina dei giardinetti con il barboncino sulle ginocchia. Sentite cosa dice. Mio figlio entra in Fonsai il 25 maggio 2011, quando avevo già cessato le funzioni di commissario a Bologna ed era una tranquilla signora in pensione che mai avrebbe pensato di diventare ministro dell'interno. Attenzione alle date perché da commissario a Bologna la cancellieri cessa il 24 maggio, cioè un giorno prima che il figlio entra in Fonsai e subito dopo non è che va all'ospizio o ai giardinetti perché il PDL la vuole candidare come sindaco di Bologna. Il 20 ottobre diventa commissario a Parma, ma dura un mese perché la fanno subito ministro dell'interno del governo Monti. Poi 17 mesi dopo è candidata al Quirinale e poi è ministro della giustizia di Letta. Cioè o sorteggiano le cariche nell'elenco dei pensionati ed esce sempre lei, oppure c'è qualcosa che non funziona. Quinta ed ultima bugia. Non voglio eludere un tema su cui sento di dovere delle spiegazioni. I miei rapporti con la famiglia Ligresti. Poi però elude, altro che se elude, perché dice solo sono stata e sono amica di Antonino, con gli altri solo una semplice conoscenza. Ma a parte che Antonino basta e avanza perché è stato arrestato e condannato per corruzione della Guardia di Finanza e c'è da domandarsi perché un prefetto, un ministro dell'interno, un ministro della giustizia continua a frequentare un pregiudicato. E poi c'è anche l'altro fratello, e cioè Salvatore. Solo conoscenze. Anche Salvatore ha una condanna e un arresto per tangenti a Craxi. E non è una semplice conoscenza. Perché quando chiama la compagna di Salvatore, cioè la Gabriella Frani, il ministro Cancellieri la chiama a Lella, le dice ti voglio bene da morire, con tutto l'affetto di sempre, e poi maledice il giorno in cui, in visita alla loro cascina, parlarono della rottura che si era consumata tra il figlio, Peluso, e la Fonsai di Ligresti. Perché? Perché il figlio, prima di andarsene, lo diceva Santoro prima, con 3 milioni e 6 nelle tasche di buon uscita, aveva denunciato i buchi di bilancio del gruppo e in qualche modo innescato l'inchiesta. Quel giorno, nella cascina dei Ligresti, la Cancellieri dice alla Frani io non sono contenta, non vorrei che ci andasse di mezzo la nostra amicizia. E non è mica male per una semplice conoscenza occasionale, perché vai nella cascina di Salvatore Ligresti, ci vai qualche mese fa, quando probabilmente lui è già indagato insieme ai figli per falso in bilancio aggiotaggio. E tu non sei una passante, sei il ministro dell'interno, che ci fa il ministro dell'interno nella cascina di un pregiudicato di nuovo indagato. E perché poi da ministro della giustizia telefoni pure per lamentarti di quello che fanno i giudici contro i tuoi amici? Lasciamo pure da parte, l'abbiamo detto e siamo tutti d'accordo, le telefonate ai due vice capi dell'amministrazione penitenziaria per raccomandare Giulia Ligresti, facciamo anzi finta che non le ha nemmeno fatte. Ma se ne dovrebbe andare anche senza quelle telefonate. O almeno cambiare ministero, la facciano ministro della marina mercantile, non dico dell'agricoltura, se no poi si offende la De Girolamo, sottosegretario all'umanità, visto che è un'esperta in umanità, o dirigente telecom, vista la dimestichezza che ha con i telefoni. L'unico mestiere che non può fare è il ministro della giustizia, giustizia, giustizia lo ripeto tre volte, perché adesso quando presenterà il prossimo piano carceri tutti penseranno, così la prossima volta che arrestano i Ligresti stanno più comodi, se invocherà l'amnistia e l'indulto tutti penseranno che lo faccia per i Ligresti e figuriamoci le battute se riformerà la carcerazione preventiva con delle soluzioni alternative più blande e tutti si divertiranno a dire arresti domiciliari o Ligresti domiciliari post scriptum per Matteo Renzi che si vanta della sua coerenza perché noi leggiamo sempre che i renziani sono critici, loro per definizione sono critici su Alfano, sull'amnistia, su un sacco di cose. Poi però al momento di votare votano sempre con il resto del partito per la maggioranza e il governo o per carità di patria o per non dispiacere a Napolitano. Ecco, visto che qua c'è una mozione di sfiducia che non è contro il governo ma è individuale soltanto contro la Cancellieri. Perché non votano contro la Cancellieri anche loro? Insomma, sono rottamatori o manutentori? Ecco, devo dare il tempo.